Parliamo di peli, è un discorso secondo me meno superficiale di quanto possa sembrare, infatti in passato ho fatto altri video sull'argomento che ci terrei che voi vediate prima di proseguire con questo video che sarà molto più pratico e in questo video vi racconterò quali sono i miei metodi preferiti per togliere i peli. Premetto che io tolgo i miei peli in modo diverso in base alla zona del corpo e anche al periodo direi ed è anche per questo che io non ho mai fatto, né ad oggi vorrei fare, metodi che tolgono i peli in modo definitivo perché cambio molto idea in base alle zone e in base al periodo, quindi preferisco lasciarli crescere e decidere di volta in volta. L'altra premessa è che io preferisco fare tutto da me fatto in casa, il che vuol dire che io sia costantemente alla ricerca di metodi semplici ma efficaci che io possa fare DIY da sola. Quindi vi parlo dei metodi miei preferiti che tolgono i peli alla radice e che non tolgono i peli alla radice. Partiamo con i metodi che tolgono i peli alla radice perché è anche il mio metodo preferito. Questo video è in collaborazione con Brown. Io utilizzo Silk Peel da quando sono molto molto piccola, quindi quando mi hanno chiesto di collaborare sono stata felicissima anche perché era da tempo che volevo acquistare un nuovo dispositivo, visto che quello che avevo mi era durato davvero tantissimi anni e penso anche che sia un buon investimento sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista ecologico nel senso che sono consapevole che questo metodo fa sì che tu ne compri un dispositivo una volta e poi ti dura praticamente per anni e anni e anni. Questo è il nuovo gioiellino. È in questo periodo il mio metodo preferito, quindi parto da lui che è quello che sto utilizzando di più ed è il nuovo Silk Peel 9 Flex. Questo qui ha tantissime testine, cioè io ci metto letteralmente pochi minuti a togliere i peli dalle gambe, ad esempio, e hanno poi un rasoio. Questo qui lo utilizzo tantissimo per spargere la crema sul corpo, ma ovviamente la funzione principale che utilizzo di più è questa qui, ovvero quella che toglie effettivamente i peli. Tra l'altro ha una luce che ti aiuta sia a capire la pressione da applicare sia effettivamente ti illumina la zona che stai epilando e quindi ti fa vedere meglio i peli che stai togliendo. Questa è la mia testina preferita perché la trovo super veloce. Davvero ci metto pochissimi minuti a togliere tutti i peli. Tra l'altro, oltre ad essere velocissimo, non tornerei mai indietro rispetto a quello che ho utilizzato in passato perché questo è anche wet and dry, quindi si può utilizzare sotto la doccia. Con l'acqua è davvero velocissimo, ormai in doccia lo porto sempre con me e do una passata in pochi secondi. Ho tolto i peli e la cosa fondamentale per me è che togliendoli dalla radice ovviamente non mi ricrescono per settimane e settimane. Per quanto riguarda il dolore, io non sono particolarmente sofferente. Poi dipende dalla zona del corpo, però ad esempio io lo utilizzo tranquillamente nella zona delle gambe, la mezza gamba, ascelle e inguine. Queste sono le mie zone preferite per utilizzare il silk epil, l'ho sempre utilizzato e lo utilizzerò praticamente fino alla fine dei miei giorni perché lo adoro. Quindi sì, il mio metodo preferito in particolare è il silk epil in questo periodo perché lo trovo il più efficace, nel senso quello che mi toglie i peli in modo più veloce, che mi fa durare più a lungo il fatto che la mia pelle sia liscia e lo trovo pratico, nel senso che non sporco, non utilizzo 800 prodotti, utilizzo quello, perfetto. Un altro metodo che ho utilizzato più che altro in passato ore da un po' che non lo utilizzo è la ceretta fatta in casa. Io sono andata sempre dall'estetista, comunque per un periodo sono andata dall'estetista ma gira e rigira torno sempre a preferire la ceretta fatta in casa. Quella che ho utilizzato io per più a lungo è la ceretta a base di zucchero e limone della quale tantissimi anni fa avevo fatto un video, ve lo lascio qui sopra. La ricetta però è un po' un ternalotto, cioè mi rendo conto che a non tutti esce, a non tutti esce subito e quindi si deve prendere un po' la mano con le dosi, ma è una ceretta sicuramente ecologica perché a base di zucchero e limone è pratica perché non è appiccicosa, quindi si toglie tranquillamente via con l'acqua e toglie secondo me i peli benissimo. Quindi questo qui è un altro metodo che io ho utilizzato e preferisco come metodi che tolgo nei peli alla radice, sulle ascelle no, sulle ascelle preferisco sempre solo il silk peel perché la ceretta da sola sulle ascelle non riesco a farmela mentre il silk peel ci metto poco, fa un po' male ovviamente, però effettivamente il metodo che io preferisco perché nelle ascelle mi fa durare più a lungo il fatto di non avere la ricrescita. E un altro piccolo contro della ceretta rispetto al silk peel, per la mia esperienza è che il silk peel toglie i peli anche quando sono più corti e li toglie sempre alla radice, quindi per fare la ceretta ho bisogno di una ricrescita maggiore, cosa che non sempre posso aspettare perché magari ci sono momenti in cui non mi va di uscire con una ricrescita dei peli in vista e quindi alla fine ripiego sempre sul silk peel. Passiamo adesso ai metodi che non tolgono i peli alla radice, vi parlo di due metodi che sono i miei due metodi preferiti, uno non è tanto il mio preferito ma è un'opzione secondo me molto valida e l'altro è un amore della mia vita, non troppo recente, ormai la utilizzo da un annetto penso e più, per la quale potrei ricevere una fracca di insulti, però a mio rischio e pericolo io devo condividere con la mia esperienza e lo farò qui con voi. Il primo metodo è il rasoio in metallo, non usa e getta, questo qui io l'ho preso su Amazon, ve lo lascio nell'info box, non è di una marca in particolare, non vi consiglio questa in particolare, però vi consiglio se siete team rasoio di utilizzarne uno non se getta. Io non sono mai stata team rasoio per vari motivi, però ci sono alcune zone del mio corpo in cui magari preferisco ritoccare con il rasoio. Se siete team rasoio io vi consiglio di investire su uno di questo tipo, perché dal punto di vista ecologico è sicuramente più consigliato, bisogna fare un po' la mano, farci un po' la mano perché è molto tagliente rispetto ai rasoioi classici in plastica, quindi magari va utilizzato con dell'olio di cocco o con un prodotto apposito per la depilazione, e insomma bisogna prenderci la mano, io questo qui lo consiglio, però se già siete predisposti a utilizzare un rasoio di questo tipo, cioè un rasoio in genere, se siete team rasoio, vi consiglio comunque di passare da quell'io se getta a questi qui in metallo, ma fate attenzione. Il metodo che utilizzo invece per il baffetto, la zona del viso, è una cosa che magari non tutti sapranno, non tutti conoscono, non mi ha permesso, è stata la rivelazione. So che è un argomento molto discusso, perché c'è la leggenda metropolitana, secondo la quale se tu togli il pelo con un rasoio poi ti cresce più duro, per la mia esperienza e per le mie competenze questo non è mai successo, quindi ci sono zone del mio viso che io continuo a togliere non dalla radice, come la zona del baffetto, perché io ho dei peli non troppo duri, non troppo scuri, ma sono scuri in relazione alla mia carnagione, quindi si vedono particolarmente, mi mette un sacco a disagio avere i baffetti sul viso e quindi la mia soluzione è questa qui, un rasoietto da viso. In Italia non si trovano praticamente da nessuna parte, mentre quando sono andata ad esempio a Berlino li ho sempre visti nelle classiche catene in cui vendono prodotti per l'igiene personale, io li trovo su Amazon anche questi. Non è la soluzione più ecologica in assoluto, perché questi li vendono sempre e solo in plastica, non ho mai visto questi rasoietti non usa e getta, quindi purtroppo continuo ad utilizzarli, perché per me è la cosa più pratica e io sono davvero troppo delicata in questa zona. Questi qui sono dei rasoietti che si utilizzano in questo modo, togliendo i peli. Se volete ve ne parlerò più nello specifico, vi faccio vedere come li utilizzo, o nel pratico magari faccio un video su come io depilo il viso, quindi sopracciglia e baffetto fondamentalmente. Però io mi trovo bene perché uno, appara la crescita, quindi anche soltanto se voi avete una crescita sfalzata, potete utilizzare per un po' questo metodo e poi continuare il vostro metodo classico, che può essere la ceretta o quello che sia, ma io in realtà utilizzo sempre solo questo, tolgo i peli, ovviamente crescono più velocemente rispetto a un metodo come la ceretta, perché semplicemente non li toglie dalla radice, però a me non crescono più duri e lo utilizzo davvero da un anno e forse anche più. Non mi fa male, non mi fa uscire irritazioni, questa è stata per me la salvezza. so che ci sarà gente molto scettica, però... Bene, io spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile, di ispirazione, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro metodo preferito per togliere i peli. Se vi va mi trovate anche su Instagram con il nick Maybe Simona. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Vi mando un bacio! Ciao!